bella lì ragazzi e ben ritrovati oggi faremo un velocissimo tutorial per vedere come caricare o meglio depositare soldi direttamente in ghettai o tramite questa nuova funzione da poco inserita l'idea di fare un po questo video nasce sia dalle molte persone che mi chiedono come fare a ricaricare non solo su ghettai o ma anche su altri exchange in quanto a volte le carte non vengono accettate o bonifici non accettati in questo caso che io ho appunto giunto questa funzionalità da poco è venuta in mente la cosa anche da un commento di uno di voi in uno dei precedenti video in cui appunto suggeriva di fare una un confronto delle commissioni deposito su ghettai o iniziamo prima a vedere come si fa a depositare subito io visto che la funzionalità è nuova e vi farò vedere tramite gli app che appunto è una cosa applicazione abbastanza nuova che onestamente conosco da poco ma che trovo utilissima sto già utilizzando proprio perché metta di a disposizione oltre che fare pagamenti senza commissioni tra i diversi iscritti a disposizione una carta virtuale di cui si può anche richiedere una fisica che può essere utilizzata tranquillamente per tutti i pagamenti online e controllare le spese vi lascio il referral anche in descrizione per quanto riguarda appunto questa applicazione tramite quello avrete al prima ricarica di un minimo 5 euro altri 5 euro in regalo e alla seconda durante il mese di novembre stessa cosa per altri 5 euro altri 5 raga euro in regalo quindi diciamo si avrà al cento per cento di api se volete istantaneamente su 10 euro depositati quindi molto bene molto utile e diciamo comunque raccoppiata con ghettai o secondo me funziona molto bene chiaramente non è ci sono fini commerciali per nessuna delle due applicazioni perché te ne per i app però ritrovo assolutamente utili andiamo quindi a vedere appunto come fare un deposito benissimo vediamo quindi come funziona questo nuovo servizio e voglio approfittare per presentarvi anche un nuovo programma nuova app che non conoscevo che sono scritto da poco ovvero gli app che secondo me è molto utile per strutturizzata anche con i vari exchange dato che come sapete alcuni stanno facendo un po di blocchi problemi ad esempio anche su depositi sepa o sul tipo di carta utilizzare in diverse persone come ho fatto vedere poco fa oltre a chiedermi appunto di ghettai o come depositare mi chiede di come superare alcuni problemi di alcune carte che bloccano i pagamenti verso appunto gli exchange quindi in questo senso ho già provato e il servizio offerto i app è perfetto anche a questo scopo ma procediamo quindi quello che l'esempio voglio farvi vedere voglio ricaricare ad esempio 30 dollari perché è il minimo presente su bank sa che ripeto un servizio esterno comunque in collaborazione fatto in collaborazione con ghettai o e quindi procediamo appunto selezionando questo servizio scendiamo giù cliccando su pur chase viene appunto servi aperto veniamo ridirezionati sul portale di bank sa dove poter procedere autenticandoci inserendo i dati della nostra carta chiaramente il disclaimer che confermiamo ed eccoci che veniamo appunto ridirezionati qua adesso andremo ad inserire i dati appunto della carta di yap switch un attimo quindi su yap ed eccoci qua su yap tra l'altro ragazzi suggerisco c'è una promo in corso se vi registrate con referral che vi lascio in descrizione avrete come bonus alla prima ricarica minima ricarica di 5 euro altri 5 euro e alla seconda nel mese di novembre ancora altri 5 euro di bonus quindi diciamo con una ricarica 10 euro si raddoppiano al 100 per cento si hanno 10 euro di bonus ho già fatto anche io anche io sono scritto da poco e funziona l'ho utilizzata anche per caricare diversi exchange funziona tranquillamente quindi diciamo si unisce l'utile direttevole di una nuova applicazione che funziona sull'exchange molto bene cliccando adesso poi sulla carta vedremo i dati della carta cosa chiaramente non vi farò vedere su qui che andremo utilizzare per farla ricarica su geta io prima di andare su geta io faccio vedere un attimo le funzionalità che sono molto interessanti perché c'è possibilità appunto senza commissioni internamente agli app stesso ad effettuare pagamenti tra utenti inviare utenti inviare da l'uno all'altro fare ad esempio divisioni di si faceva l'esempio del campo da calcetto faccio direttamente la divisione tra tutti pagamento direttamente tramite gli app quindi diciamo molto interessante e soprattutto si aggancia tranquillamente google play google pay pardon quindi pagamenti nfc molto molto rapidi e utili ma torniamo su geta io eccoci qua creiamo quindi il nostro ordine e ci verranno adesso chiesti i nostri dati inserisco e poi li vediamo come procede e perfetto pagamento tutto inserito e a breve verrà appunto aggiornato il credito di 30 dollari in geta io bene direi quindi per oggi il video concluso grazie a tutti molto breve rapido risposta anche a uno di di voi a questo punto buona settimana ciao belli buona settimana